A Teramo verranno avviati la prossima settimana i lavori di riqualificazione e recupero di Piazza Garibaldi. Progetto da 1,2 milioni di euro che vedrà interventi sia in superficie che nella parte interrata, cioè nei sottopassi e nella sala ipogea. Un progetto che si struttura su tre gambe, la prima, la sistemazione dell'area sovrastante su Piazza Garibaldi, anche con gli interventi di manutenzione e sistemazione, è un primo intervento di restyling che ci consentirà di restituire bellezza ad uno spazio centrale della nostra città. Il secondo, la seconda gamba, è quella relativa agli interventi sui sottopassi e sulla sala ipogea che dovrà essere resa sempre più funzionale, è diventato uno spazio nevralgico per la cultura e per la vita cittadina, ma deve essere funzionale. Purtroppo in questi anni lo è stata poco per una serie di questioni tecniche legate ad errori del passato. Terzo aspetto, il ripristino dell'accesso storico alla Pinacoteca Civica, dalla villa comunale con il posizionamento della Leonessa, è una parte di progetto che ha voluto fortemente l'assessore di Buonaventura. Dobbiamo spingere proprio nel ripristino di questo legame storico tra la villa comunale, la Pinacoteca Civica, valorizzazione ambientale e culturale della nostra città. Da domani 2 luglio invece inizierà l'installazione del cantiere che comporterà modifica al traffico sull'area della piazza. Le novità causeranno in modo inevitabile dei disagi cittadini e probabilmente rallentamenti alla circolazione. Sì, da domani, diciamo dalla prossima settimana, inizierà l'operazione di cantierizzazione di Piazza Garibaldi. La ditta inizierà a posizionare New Jersey con un ristringimento proprio della carreggiata, della fruibilità di Piazza Garibaldi. È un importante inizio di lavori che si dovrebbero concludere prima della riapertura delle scuole. Chiediamo ovviamente alla ditta un'imponente messa a disposizione di lavoratori e di mezzi per poter fare più velocemente possibile, ma la velocità non si deve accoppiare ovviamente alla qualità dei lavori, perché la cosa più importante è eliminare una volta per tutte le problematiche di infiltrazione sia sotterranea che di superficie dell'acqua piovana. Questo è l'obiettivo che c'eravamo prefisti, insieme a questo la riqualificazione dei sottopassi pedonali che saranno poi restituiti alla città, speriamo una volta per tutte, senza problematiche di distacchi di intorno e quant'altro.